Il software di Mission Planning UGCS ha una versione Pro e una versione Enterprise. La versione Enterprise è stata sviluppata da non molto poi rispetto a quando stai guardando questo video, io lo sto registrando a ottobre del 2022, da quando sono entrati abbastanza violentamente tra virgolette nel mercato i LiDAR, UGCS ha deciso di sviluppare una versione Enterprise che integra al suo interno la possibilità di fare Mission Planning proprio per acquisizioni LiDAR da drone. Però tutto sommato credo che anche la versione Pro ti permetta di poter fare delle acquisizioni, delle programmazioni di missioni di volo per acquisizione LiDAR con un paio di accorgimenti. In questo video voglio farti vedere come poter fare, tu vedrai la mia versione che è la versione Enterprise che utilizzando da un po' di tempo il LiDAR montato su drone ho deciso di andare in questa direzione e in effetti ci sono dei tool molto interessanti. Però voglio darti la possibilità, voglio farti vedere, voglio condividere come puoi trovare un modo per fare del Mission Planning anche con la versione Pro per il tuo LiDAR in volo. Allora andiamo dentro UGCS dove c'è un'area montana e probabilmente la tua interfaccia se è la versione Professional è diversa dalla mia, nel senso che io avendo la versione Enterprise ho attivato, ho attivi, ho disponibili tutti gli strumenti che sono a disposizione nel menu qua a sinistra compresi quelli dove c'è questa L verde, LiDAR Area, LiDAR Corridor e ci dovrebbe essere anche il pattern che è sbloccato per l'Enterprise. Vediamo come funziona ad esempio lo strumento LiDAR Area cioè uno strumento che ti permette di fare Mission Planning per un'acquisizione LiDAR ci clicco sopra, sono dentro una missione demo con una rotta senza titolo creiamo una missione LiDAR, funziona in questo modo una volta che lanci il comando lui ti chiede di individuare i limiti dell'area che vuoi rilevare col tuo LiDAR a bordo del drone facciamo questo rettangolone che sta a cavallo di questo crinale è tutto molto semplice, no è semplice, è semplice ma è tutto molto simile al processo di Mission Planning per fotogrammetria che rimane libero per la versione Pro quello che devi fare ad esempio è individuare la direzione di percorrenza quindi come vuoi che si muova il drone in termini di disposizione delle strisciate rispetto all'area che hai appena disegnato e poi all'interno del tool che UDCS ti mette a disposizione per LiDAR Area ci sono dei parametri che secondo me sono interessanti e in realtà sono stati proprio pensati per questo tipo di acquisizione il primo parametro che tu puoi inserire è il Field of View allora il LiDAR poi dipende molto da sensore a sensore ad esempio il sensore che monto io, che utilizzo io è un sensore che ha uno specchio è il sensore LiAir che monta il sensore LiDAR LiVox Avia ha uno specchio, è uno specchio da cui esce un fascio di raggi laser con un angolo di campo di 70 gradi impostando questo valore il software riesce a calcolarti le strisciate sulla base di quella che poi è la sovrapposizione che tu vuoi avere tra una strisciata e l'altra per cui si parte da questo si parte da dare il valore di Field of View, l'angolo di campo nel mio caso è a 70 gradi tu potresti avere un angolo di campo più piccolo e vedrai che le strisciate adesso si raffittiscono oppure potresti avere un angolo di campo più grande in caso in cui tu abbia un sensore rotativo e le strisciate ecco che diventano più rade torniamo al valore che è il mio valore di default che è 70 gradi Altitude Mode lasciamo a GL in modo tale che lui segua l'andamento del terreno Flight 8 l'altezza di volo è importante non si deve definire un GSD in questo caso perché non è fotogrammetria ma devi definire a quanto vuoi che voli il tuo LiDAR rispetto al terreno in relazione alle caratteristiche del tuo sensore e da quello che vuoi tirare fuori quindi un sensore con una portata molto spinta potrebbe volare più in alto un sensore con una portata più bassa potrebbe volare un po' più vicino oppure potresti voler volare vicino per avere una maggiore densità di punti insomma questa è una scelta che devi fare tu io adesso lascio posso mettere 80 metri ho un'altezza abbastanza standard che utilizzo per questa tipologia di rilievi di acquisizione dati Side Overlap Side Overlap è la sovrapposizione che vuoi avere tra le strisciate anche in questo caso questo ricalca molto quella che è il Side Overlap di una missione fotogrammetrica la missione di volo fotogrammetrica si riferisce alle caratteristiche della camera a quanto vuole in alto che affiglia del GSD e ti dice beh se vuoi avere una sovrapposizione di tot percentuale io ti creerò delle strisciate ad hoc considera che per un volo LiDAR ed è qua che si massimizza molto l'acquisizione di dati territoriali le sovrapposizioni non sono così importanti come per un'acquisizione fotogrammetrica dove devi creare fondamentalmente il modello passando attraverso il software Structed From Motion si lavora abbastanza tranquillamente con Side Overlap del 30% se vuoi essere un po' più tranquillo puoi andare al 40% al 50% non serve assolutamente andare a Side Overlap di 70% che sono molto tipiche per la fotogrammetria lasciamo un 40% oppure puoi scegliere di dire qual è la distanza che vuoi mantenere tra le strisciate però io preferisco lavorare con un Side Overlap perché? Perché lui in questo modo ha dentro le informazioni di quanto è l'angolo di campo e di quanto vola in alto e quindi mi calcola automaticamente la posizione reciproca delle strisciate velocità di volo la scegli tu attenzione alla velocità di volo perché questa influisce su che cosa? sulla densità dei punti a terra un drone che va molto veloce ti darà una densità in output e la nuvola di punti ridotta rispetto a un drone che sulla solitaria alla stessa distanza va più piano se hai una camera che è in qualche modo gestibile anche da UGGS mi viene in mente ad esempio la camera del sensore LiDAR DJI L1 credo che tu possa individuarla all'interno ad esempio qua dell'elenco che ti mette a disposizione UGGS quindi scegli la camera e il formato che vuoi utilizzare e qua puoi scegliere qual è la sovrapposizione in avanzamento delle fotografie che verranno scattate da questa camera 60% 80% tieni conto che le fotografie vengono usate per fare la colorazione della nuvola di punti anche se io poi le uso anche per fare della fotogrammetria io qua non lo metto mai questo parametro perché il mio LiDAR ha una camera che viene gestita separatamente quindi non posso triggerare lo scatto però c'è anche questa possibilità Direction Angle è quello relativo a come vuoi che vengono orientate le strisciate rispetto all'area che hai appena disegnato e poi qua ci sono una serie di parametri che sono interessanti questi tre Loop Turn Angle, Straight Flight After Turn e Corner Radius sono interessanti per permetterti di gestire il volo in modo tale che il drone sia fluido e non faccia dei singhiozzi, non faccia delle brusche curve, abbia un andamento morbido e questo aiuta molto l'IMU o meglio tutta quella che è la registrazione dei dati navigazionali e poi il post processing per avere un output morbido diciamo così tutte accelerazioni e decelerazioni, stop and go non aiutano un'acquisizione di questo tipo dove la fluidità ha un grande valore in questo senso per cui tu puoi lavorare su questi parametri se incomincia a lavorare sul Loop Turn Angle giusto per farti vedere che cosa succede vedi per evitare di farti fare degli angoli in corrispondenza dei cambi lui va addirittura, va lungo e poi fa una curva puoi scegliere di definire quanto andare lungo dopo una curva quindi 20 metri, 50 metri e puoi anche definire l'angolo, il raggio, scusa, l'ampiezza del raggio di curvatura ogni volta che c'è un cambio di direzione, in questo caso 20 gradi oppure potresti aumentarla ancora di più e quindi i lati vengono ancora ancora più smussati questo aiuta ad evitare i bruschi cambi di direzione in corrispondenza delle curve in questo modo hai la possibilità di gestire il piano di volo in maniera molto ottimizzata e molto mirata a quella che è una posizione LiDAR alla fine questo è il percorso poi puoi definire un area buffer quindi puoi scegliere di farla un po' più ampia quindi prendendo dei dati che sono extra rispetto all'area del tuo rilievo quindi avendo dei dati ridondanti che puoi eventualmente trattare a posteriori in software che ti tolgono qualcosa ma non ti vanno a erodere il cuore del tuo rilievo anche qua l'overshoot riguarda la presa fotografica e poi qua ci sono tutta una serie di opzioni che però ritroviamo anche da altre parti questo è quello che succede con il LiDAR tool con lo strumento che ti permette di fare una programmazione di missione di volo in termini di utilizzo un LiDAR e uso gli strumenti di UGCS Enterprise però in realtà creo un'altra missione, un'altra rotta in realtà quello che puoi fare potrebbe essere lavorare anche con gli strumenti di UGCS però senza andare nell'Enterprise e utilizzare, visto che non hai a disposizione l'IDAR scan utilizzare l'area scan l'area scan ti permette di fare una scansione di un'area e alcuni parametri noi li ritroviamo abbastanza similari oppure li possiamo prendere dalla missione LiDAR che abbiamo appena fatto perché anche se non hai UGCS Enterprise tu puoi creare una missione LiDAR ma poi non puoi importarla all'interno del tuo drone per cui te la fa creare ma non la puoi importare almeno fino adesso, poi non so se le cose cambieranno area scan, quello che fa l'area scan è crearti un pattern di volo sulla base di informazioni che tu gli dai all'interno di un'area che hai disegnato e allora quello che possiamo fare è provare a ricreare un area scan che assomigli il più possibile all'IDAR area scan che abbiamo fatto prima prendendo le informazioni proprio da quello le informazioni quali sono? l'informazione, una prima informazione ad esempio è la velocità di volo quella è indipendente dalle traiettorie noi abbiamo messo una velocità di volo di 5 metri al secondo e ci teniamo quella turn type, ecco questo è piuttosto importante il mio consiglio è ogni volta che utilizzi un LiDAR non utilizzare il comando stop and turn cioè il drone arriva in waypoint, si ferma e gira ma utilizza il comando adaptive bank turn cioè lui arriva in waypoint e smussa l'andamento della traiettoria evitando lo stop and go questo per quello che ti dicevo prima perché un'acquisizione LiDAR soffre tutte le brusche accelerazioni ed accelerazioni white 8 mi sembra di aver messo 80 altitude mode AGL area scan l'area scan ti richiede come parametro fondamentale altrimenti senza di questo non fai il mission planning la side distance la side distance è la distanza misurata al suolo ma di fatto è la distanza planimetrica tra le strisciate che tu vuoi che il software ti crei nella scansione di questo poligono allora la side distance noi non possiamo inserire il field of view e neanche il side overlap ma noi abbiamo qua la possibilità e sono tornato al LiDAR mission planning di andare a misurare per esempio tra questi due waypoint quant'è la distanza utilizzo lo strumento distance measurement faccio clic su questo punto clic su questo punto ora è approssimativa mi va bene così leggo 70 metri questo valore di 70 metri io lo posso prendere come valore da utilizzare per il dato di distance measurement questo lo posso togliere non so cosa ho combinato questo lo togliamo e ce la facciamo forse ecco qua possiamo utilizzare questo valore di 70 metri come side distance da inserire nell'area scan a questo punto lui ricalcolerà la traiettoria e se ci fai caso al di là di un leggero shifting che c'è non è così diversa il percorso che lui fa nell'area scan utilizzando UGCS Pro rispetto a quello che lui fa nell'area scan nel LIDAR area scan e quindi in questo modo prendendo l'informazione dalla mission planning che hai fatto e anche se hai la PRO puoi fare il mission planning non la carichi con gli strumenti LIDAR ecco che io riesco in qualche modo a ricalcarlo chiaro non riesco a smussare gli angoli non riesco a mettere posso mettere un overshoot quello assolutamente sì quindi posso aumentare il buffer dell'area non posso mettere delle informazioni in corrispondenza degli angoli e come vedi il percorso LIDAR è molto più smussato rispetto al percorso dell'area scan questo chiaramente è un limite ma altrimenti si andrebbe sempre a utilizzare l'area scan però in questo modo c'è la possibilità di prendere informazioni dal tool LIDAR area scan e di crearti una missione di volo per il leader che ricalchi quelle informazioni che sono poi figlie dell'angolo di campo dell'altezza di volo della sovrapposizione laterale e in questo modo è la possibilità in qualche modo di cavare fuori le gambe e riuscire a fare una programmazione di missione di volo per il tuo LIDAR l'area scan se utilizzi lo strumento area scan con il GCS Pro la puoi tranquillamente importare all'interno del drone quando sei in campo o quando sei in ufficio prima di andare in campo e quindi sei pronto poi per fare la tua azione e effettivamente mandare il drone in volo e fare l'acquisizione LIDAR in quel caso lì dovrai avviare manualmente l'acquisizione dei dati lo scatto delle fotografie questo è un'altra cosa qua stiamo parlando soltanto di mission planning però in questo modo in qualche modo senza avere l'enterprise riesci a tirarne fuori le gambe poi l'enterprise ad altre features magari poi te lo faccio vedere in un altro video 3dmetrica.it telegram.me slash 3dmetrica è il posto dove mi trovi online patreon.com slash 3dmetrica se vuoi supportare il mio progetto io sono Paolo Corradeghini ti ringrazio per aver visto questo video ti do l'appuntamento al prossimo ti saluto fortissimo ciao ciao